Grazie a tutti! Finalmente vedo da italiano e da europeo che qualcosa sta cambiando nell'atteggiamento dei governi. Hanno capito finalmente che l'Ucraina è il primo boccone che la nuova Unione Sovietica, che si chiama adesso in un altro modo, vuole fare della libertà. L'altro ieri Putin ha detto chiaramente che se Svezia e Finlandia osano pensare di entrare nella Nato faranno la stessa fine dell'Ucraina. Questo lo ha detto. Allora vedo che finalmente in tutte le capitali dell'Unione Europea, in tutte le capitali della Nato si sta facendo chiara avanti la comprensione di quello che occorre fare. Occorre fermare questa invasione, occorre ricacciare questa invasione. Vogliamo la pace, ma la pace si può fare solo quando l'ultimo soldato e l'ultimo cararmato e l'ultimo elicottero dei russi avranno lasciato l'Ucraina. Solo a questa condizione si potrà avere la vera pace. Non posso sentire loro perché sono sotto terra. Vi prego, postate qualcosa ai miei amici russi che siete qua con me, che cinque giorni fa andavamo in giro insieme in ristoranti. Noi dappertutto postavamo la nostra vita felice. Vi chiedo solo di stare vicino a noi, per favore. Postate che l'Ucraina sta male, per favore. Noi siamo uguali. Non deve essere la guerra. Noi vogliamo la pace. Noi siamo ucraini. Slava ucraini! Noi siamo ucraini!